Buongiorno, siamo con il professor Dario Lianes, docente ordinario di pedagogia e didattica dell'inclusione all'Università di Pozzano, corso di laurea in scienze nella formazione primaria e cofondatore del centro studi Erikson di Trento, per il quale ho curato alcune collane, autore di vari articoli e libri e direttore della rivista Dida. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno. Professore, tra pochi giorni inizia la scuola. Con il decreto interministeriale del 28 dicembre 2020, numero 182, vengono definiti i nuovi modelli del piano educativo individualizzato, il PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Quali sono i cambiamenti principali del nuovo modello PEI? Bene, allora, innanzitutto bisogna dire sempre che nella nostra scuola il PEI è un'istituzione, diciamo ormai, nel senso che siamo cresciuti, diciamo, fin dagli anni 90 con il PEI come grande grande presidio poi di qualità dei processi di integrazione. Io sono convinto che se non ci fosse stato il PEI previsto di norma, io credo che le cose sarebbero andate sicuramente peggio. mentre prevedere che ogni ragazzo, ogni ragazza con disabilità debba avere una sua programmazione tagliata su misura, individualizzata, ben costruita, decisa insieme, col supporto dell'azienda sanitaria. Insomma, queste sono delle cose che, insomma, possono essere un presidio forte, no? Per cui già abbiamo la tradizione PEI, diciamo, non arriva, come vuol dire, un'astronave che non... no, cioè arriva, primo. Secondo, in questi vent'anni che c'è stato ICF in Italia, perché ormai ICF dell'Organizzazione di Modelle Sanità, sono vent'anni, moltissime scuole, sollecitate anche da pubblicazioni che abbiamo fatto noi, altri colleghi, eccetera, hanno cominciato a fare un PEI su base ICF, cioè con un approccio che è biopsico-sociale, per cui molto più ampio, molto più articolato, molto più relazionale, e quindi via. Per cui c'è stato anche un fermento, diciamo, libero, diciamo, nelle scuole, di costruzione di un PEI più aderente, diciamo, ad una visione più moderna della disabilità. Per cui punti di forza, per cui rapporti, diciamo, col contesto, che il contesto veniva identificato come elemento fortemente determinante, no? Il funzionamento di una persona, nel bene e nel male. Per cui ci sono stati questi due, diciamo, questi due vettori, no? Che portano verso quest'ultimo, quest'ultima evoluzione che origina nel 2017 col decreto 66, il quale dice, adesso banalizzo un po', ma dice, signori della sanità, voi mi dovete fare un profilo di funzionamento su base ICF. Signori della scuola, voi mi dovete fare un PEI su base ICF. E questa era una grandissima cosa, perché creava una filiera coerente, no? Tra quel mondo, diciamo, sanitario che si contaminava un po' di pedagogico nell'UVM, nel profilo di funzionamento, e poi traslava, diciamo, nel PEI in maniera completa. Questa era la grande novità, diciamo, rispetto a prima, no? Cioè aver formalizzato in una norma che ICF, c'è questa visione biopsicosociale, diventava, diciamo, lo standard su cui dovevi fare un certo errore. Con questo entusiasmo io ho cominciato a partecipare al gruppo tecnico con Fioramonti ancora nel 2019. Poi però Fioramonti si è dimesso, e questo gruppo tecnico, che era molto interessante, appena abbiamo lavorato pochissimo di fatto, perché abbiamo lavorato in uno scorcio di 2019, ma la composizione era interessante perché c'era anche la sanità dentro, c'era sanità che stava pensando alla certificazione, al profilo di funzionamento, e PEI, parte pedagogica, che doveva pensare appunto all'aspetto, diciamo, pedagogico-didattico col PEI. Poi con le dimissioni di Fioramonti si è smontato questo gruppo e la Zolina ha fatto un altro gruppo molto più scuolacentrico, chiamiamolo così, senza sanità, e che ha preso l'avvio, diciamo, di fare questi nuovi modelli, che sono nuovi modelli solo parzialmente riferiti a DCF. Di questo è un po' la delusione di alcuni, che c'è ICF, ma poco ce ne poteva essere di più e poteva essere più in linea con il lavoro che auspicabilmente, però anche qui siamo nella nebbia, la sanità sta facendo per l'aspetto del profilo di funzionamento. Per cui la novità è sicuramente questo fondarsi su una prospettiva biopsicosociale, soprattutto blandamente, questa è la mia critica, se veniamo anche alle criticità nel frattempo, però che dà una forte spinta ad una visione di contesto, l'osservazione del contesto, cogliere se c'è uno dei facilitatori delle barriere, eliminare le barriere, aumentare i facilitatori. Questo è l'elemento, diciamo, che formalmente entra e ufficialmente entra nei nuovi modelli di PEI, mentre prima se entrava, entrava per libera scelta di alcune scuole d'avanguardia che lavoravano già su base. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, secondo me, molto forte è il coinvolgimento diretto e formale di tutti gli insegnanti curricolari. Cioè ogni insegnante curricolare non può delegare al sostegno, vuol dire fai tu il PEI che dopo io mi adeguo. Ci sono gli spazi, i modi, tutte le discipline devono identificare quali sono gli obiettivi, quali gli adattamenti, quali le strategie, che tipo di verifiche faranno, che tipo di critica, i criteri di verifica, metteranno in campo. Per cui c'è una corresponsabilizzazione diretta che è assolutamente fondamentale, perché insomma sappiamo tutti come uno dei mali, diciamo, della nostra scuola rispetto all'integrazione sia quello della DELICA, di insegnanti di sostegno e del tenersi fuori, diciamo, di molti curricolari. Ecco, poi due altre cose interessanti che andrebbero sviluppate e presidiate molto bene, è quello che io chiamo lo strabismo del PEI, cioè il fatto che debba guardare con un occhio al qui e ora, per cui alla progettazione, a quello che è la qualità dei processi di integrazione, in questo momento, in questa classe, con questo gruppo, eccetera. Però dall'altro lato guardi anche oltre, con l'altro occhio guardi al progetto di vita, guardi al progetto, quello che si chiama progetto individuale, che è la proiezione della vita adulta di questa persona, che chiaramente diventerà velocissimamente adulto e farà una lunghissima vita, perché le aspettative di vita, per fortuna, sono enormemente aumentate, per cui dobbiamo avere una visione lunga, non miopemente chiusa sul qui e ora. Questo è un altro elemento importante, che la scuola fa un po' fatica, soprattutto la scuola dei piccoli, chiamiamola così, mentre quando uno arriva nell'adolescenza, insomma, o nella formazione professionale, evidentemente questa cosa è più già salietto. Ecco, un'altra questione interessante è quello del coinvolgimento diretto dell'alunno o dell'alunna con disabilità nel costruire il PEI, cioè questo è un principio di autodeterminazione che già la Convenzione ONU aveva stabilito, come dire, niente su di noi, senza di noi, anche noi non vogliamo avere la nostra parte, dire la nostra, far sentire la nostra voce, questo è il sentimento. Ed è al di là dell'invito, diciamo, c'è proprio la cosa da compilare, perché abbiamo bisogno di strutture, proprio per orientare anche il nostro comportamento. Per cui, insomma, questo credo che siano dei punti di novità da presidiare molto bene. Ecco, rispetto al primo punto, quello del contesto, cioè di coinvolgere i curricolari tutti nell'osservazione dei loro contesti, perché io posso fare matematica, un altro fa geografia, che è un altro fa italiano, cioè crea dei contesti differenti per l'apprendimento. Allora, osservarli e fare in modo che questa osservazione porti in evidenza se ci sono difficoltà, barriere o dei facilitatori da introdurre, è tutto questo per far diventare la didattica di tutti più inclusiva. Perché il pay, se è una cosa appiccicata ad uno, rischia di essere anche un passaporto per l'esclusione. Come dire, tu c'hai il tuo pay, devi imparare queste cose, non possiamo farle in classe, perché noi dobbiamo fare tante altre cose. Tu prenditi il tuo assente di sostegno, il tuo assente di educatore, vai a farti il tuo pay in una stanzetta, e questo non sarebbe un pay inclusivo per quel ragazzo, per quella ragazza lì, ovviamente, ma non sarebbe neanche inclusivo come leva per la classe, perché la classe tutta diventi più inclusiva, per cui anche la didattica trasmissiva, rigida, tradizionale, diventi un po' più attiva, diventi un po' più partecipata, un po' più cooperativa, un po' più universale, diciamo, per tutti. Allora, quando si dice che un buon pay deve essere inclusivo, in due modi, chiaramente, nel modo per il soggetto, ovviamente, perché lo deve portare dentro la partecipazione piena della classe, ma inclusivo anche perché spinge l'inclusività del gruppo di riferimento, cioè fa evolvere, diciamo, la didattica comune, no? Quella, insomma, che tutto il gruppo frequenta. Ecco, questo è un po' come discorso di novità, che non sono poche, nel senso che, insomma, non è proprio banale. Poi ci sono anche delle difficoltà, no? Delle criticità. Ogni nuovo strumento ha bisogno di essere assegnato. Quindi, il Ministero ha realizzato dei webinar per gli insegnanti per spiegare il nuovo pay. Voi, invece, vi siete subito adoperati con l'uscita di un manuale pubblicato da Ericsson, il nuovo pay prospettivo a bio, psicosociale ed ecologica, che ora è supportato da quattro volumi operativi, sviluppato per ogni ordine di scuola. In questa fase iniziale, quanto è importante avere strumenti di supporto per strutturare al meglio questo nuovo strumento? Beh, è chiaro che è fondamentale. Lì siamo riusciti, coinvolgendo una ventina di colleghi, di persone esperte sul campo nei vari ambiti, a costruire prima il volume madre e poi questi quattro più operativi con degli esempi proprio di pay già compilati, in modo da aiutare proprio passo dopo passo l'applicazione. Perché in qualunque cambiamento costa fatica ed è impegnativo, perché usciamo dalla zona di comfort e entriamo in una… Allora un cambiamento ha più probabilità di successo se c'è un tipo di supporto. Cioè il primo volumone, chiamiamolo così, esamina il modello di pay dal punto di vista metodologico. Perché io credo che prima di occuparsi di tutti i piccoli campi, le piccole cose, devo capire la logica, il senso. Infatti lì diamo due ampi temi. Uno è quello del biopsico sociale, cioè cosa vuol dire avere una visione antropologica della persona di questo genere. E l'altro è la prospettiva ecologica. Come dire, attenzione che ci muoviamo nella scuola in un'ecologia complessa o in una serie di ecologie complesse che sono fatte di relazioni, di aspettative. Cioè è una visione di questo genere. I quattro volumi che lei citava diventano proprio una piccola guida alle varie cose da fare. Non solo da capire culturalmente e scientificamente afferrare bene queste prospettive, ma poi dare gambe concretamente. Come osservare, che tipo di osservazioni fare, che tipo di modifiche fare, che tipo di azioni fare, con degli esempi costruiti proprio da persone che lavorano sul campo. Questo è il tipo di supporto. Poi, insomma, diverse altre cose. Anche noi abbiamo messo in piedi una serie di webinar ancora nella primavera e poi ne faremo anche altri in autunno, insomma, in modo da continuare ad accompagnare. Perché io credo che il successo di un pay, diciamo che sia vecchio, nuovo, che sennò il successo di un pay, è il successo anche delle pratiche di integrazione. Per cui bisogna proprio pensarlo come uno strumento di lavoro vivo. Vivo e non un adempimento morto che piazzo in un cassetto. Una volta un insegnante mi ha chiesto invece, ma il pay si può modificare in corso d'anno? Dipende su che materiale l'ha scritto, perché se l'ha scritto su tavole di pietra sarà difficilmente modificabile. Ma se è qualcosa di lavoro, scritto su carta o addirittura in digitale, è evidente che cambia col cambiare e l'evolversi della situazione. Parliamo di cose vive, processi di apprendimento, di partecipazione sociale di persone in un contesto di relazioni ricche, varie, eccetera. E' chiaro che cambia, anzi, devi cambiare, perché è un qualcosa che ti accompagna proprio nella pratica quotidiana. Per cui sicuramente va sostenuto. Io credo che vadano sostenuti anche i sforzi che il Ministero fa, che tutti gli uffici scolastici fanno, le scuole poi lo fanno, i CTS fanno. C'è tutto un grande fermento su questo. Insomma, per cui ben venga. Poi naturalmente bisognerà, dopo il primo anno di applicazione, tirare un po' le fila, vedere se qualcosa può essere modificato, aggiustato. Io credo che tante cose dovrebbero essere aggiustate, no? In particolare tutta la questione delle risorse, delle ore di sostegno, debito di funzionamento, lesone, non so. Tutte quelle cose che hanno creato difficoltà e sono state delle criticità, insomma, andrebbero evolute, insomma, proprio perché il te è una cosa viva, no? Allora perché non dopo un anno di sperimentazione e di uso da parte delle scuole, che le scuole adesso stanno attrezzando, perché non metterci mano e fare un 2.0 e ogni anno strumento, cioè, farlo vivere, farlo crescere, no? Come strumento. Ecco, diceva, un momento nuovo che giustamente andrebbe anche revisionato per vedere i punti di forza e di debolezza di questo strumento. Cosa che già alcuni docenti hanno avuto, quindi questi dubbi, in particolare penso alle ore di sostegno che qualcuno crede in una diminuzione. Ci fa capire meglio queste criticità che sono state già evidenziate? Come possono essere superate? Allora, una criticità che avevo già in parte segnalato è quello di non essere allineato con il profilo di funzionamento in ambito sanitario. Questa è una criticità che secondo me prima o dopo bisogna affrontare, perché non puoi avere un profilo di funzionamento costruito così e un educativo costruito così, no? Perché crei la necessità di un raccordo complesso tra due, insomma, e parliamo dello stesso ragazzino o della stessa ragazzina. Prima criticità. Seconda criticità, ore di sostegno, no? Allora, tutto quel meccanismo che viene chiamato debito di funzionamento, per cui dei range, delle fasce, delle fasce, per dire non solo come prima era gravità sì o no, l'articolo 3,3 sì o no, per cui diciamo tanti, secondo il ministero troppi, cadevano nella situazione di gravità, per cui ricevevano più ore. Allora, il pensiero non tanto retro, tra l'altro, perché basta andare a vedere la relazione del ministero dell'economia alla rigge di bilancio e proprio al 182, con le fasce, con le fasce, l'intenzione era di arrivare più vicino, diciamo ad una gradualità di ore che non fosse grande e piccola, no? Ma ci fossero delle sfumature intermedie, no? Dei range intermedie, in modo che ci fosse attraverso questo un limitatore delle ore di sostegno. Perché è inutile nasconderselo che il ministero dell'istruzione più l'economia, hanno sempre cercato, sempre in modi più vari, diciamo, di limitare le ore di sostegno, di ridurle. Questo è storico, no? Io sono stato per due legislazioni con i governi prodi nell'osservatorio sull'integrazione al ministero, mi ricordo benissimo dei diversi interventi dei vari ministri che ci dicono che bisogna trovare il modo per certificare esattamente, bisogna limitare, bisogna trovare un qualche tipo di limitazione. Questo discorso va in stretta connessione con quello che io definisco il cambio di paradigma, no? Di cui bisogna uscire questa cosa qua, perché altrimenti se noi abbiamo questi paraocchi, no? Che sono? Sostegno, cioè le uniche risorse sono ore di sostegno, ore di assistenza di assistente di autonomia e comunicazione. Punto. Se noi abbiamo questa monocultura qua, è come dire, trasformo la biodiversità, diciamo in agricoltura, in solo monocultura della soia, solo monocultura della soia, che non è pensabile. E se dovremmo pensare a una, scusa, mi scusi dell'analogia, una specie di biodiversità delle risorse per fare un buon processo di integrazione. Ma no, ma scusa, se io ho un ragazzino con disturbo spettro autistico in una classe, secondaria è il primo grado. Allora, io metterei nel PEI risorse per il prossimo anno. Prima risorsa, non l'ultima, la prima, formazione e sviluppo di competenze in tutti i docenti curricolari, perché tutti i docenti curricolari devono saper gestire, relazionarsi e lavorare, questo ragazzino no. Cioè non è che posso dire, beh, l'unica risorsa sono le ore di sostegno. Carico il più possibile le ore di sostegno. Perché se queste ore di sostegno ho sentito l'autonomia e la comunicazione, mi prendono il ragazzino e me lo portano fuori. Non ho fatto un buon lavoro, no? Mentre se io dico, guarda, la mia risorsa primaria è che tutti i docenti curricolari sappiano fare il loro lavoro, magari all'inizio affiancati e poi via via, sempre meno, eccetera. Le risorse che utilizzo sono loro, i compagni di classe, naturalmente supportati, formati, aiutati, accompagnati, ovviamente non buttati allo sbaraglio. Ma quella è la risorsa, il cambio di paradigma per me è dire io ho una risorsa tecnica, che sia l'insegnante di sostegno, che sia l'insegnante dell'autonomia e della comunicazione. Benissimo. Allora, questa risorsa tecnica qua mi deve far diventare competenti i contesti normali di vita di sto ragazzino, che sono i compagni di classe, che sono i docenti curricolari. Quello è il cambio di paradigma. E allora, se io avessi la bacchetta magica, direi benissimo, tu sei l'insegnante specializzato, ne sai di autismo, tu sei l'assistente dell'autonomia, ne sai di autismo, perfetto, io ho bisogno di te, però ho bisogno che tu non ti prendi ragazzino e ci lavori tu, ok? Tu devi far lavorare gli altri con questo ragazzino. Allora, il tuo, io ti vieto, adesso, intendiamoci, no? Tu non lavori con lui, tu lavori con gli altri che lavorano con lui. Dunque li osservi, dunque gli dai suggerimenti, ti poni come modello, perché tu sei, ti poni come modello, ovviamente, sei un modello competente, ma via via questa competenza deve passare negli altri. Perché altrimenti gli altri diranno, beh, io non sono mica specializzato sull'autismo, non è mica il mio lavoro, sei tu, assistente all'autonomia e alla comunicazione, che sai la comunicazione aumentativa, sai come pensa un ragazzo con l'autismo, cioè io mi tiro fuori, no? Più o meno apertamente, diciamo, no? Perché c'è anche molta ipocrisia dentro alcune situazioni. Mentre se questo non è possibile, nel senso che, cioè, se io sono in prima, seconda e primo grado, e c'ho una classe con dentro un ragazzino autistico, o con la sindrome, o quello che vogliamo, cioè, non c'è la possibilità che io lo deleghi a qualcuno. Non c'è. Ma c'è il supporto perché io faccia. Perché dicevo, io non ho mai, non so neanche cosa è l'autismo. Perfetto, non c'è problema, tu sarai affiancato. Perché non sono conoscenze che dice, ma non è che tu prendi l'insegnante di lettere, lo metti in sala operatoria col cervello aperto, lui gli dà un bisturi in mano e dici, adesso qua, taglia. Dicevo, oddio, no? Cioè, non è pensato, ma non è così, no? Cioè, non è così. Non ci sono delle competenze estreme che non sono acquisibili con un buon percorso sul campo se uno ha normale intelligenza, normale motivazione e normale attaccamento al lavoro. Secondo me. Non esiste. Chiaramente bisogna, come dire, sostenere e supportare questo tipo di cosa. Ma finché io, io già ti sostegno, io sento le comunicazioni, ho il mio ragazzo, la mia ragazza e me lo prendo, perché io sono stato nominato grazie a quella diagnosi, e me lo prendo, e me lo porto, e me lo gestisco io, questo è il vecchio paradigma. Il nuovo paradigma per me è, non fai così, ma diventi quella che viene chiamata un enabling profession, c'è una professione che rende abili altri, no? Che rende abili altri. Andrea Canevaro, se fosse qui, direbbe, Dario, cazzo, io sono anni che dico che l'isente di sostegno deve rendere competenti i contesti. Ben prima di CF, no? Perché la visione pedagogica, della pedagogia istituzionale, diceva, le istituzioni, cioè i curricolari, i compagni di classe, il curricolo, queste sono le istituzioni, devono diventare loro stesse strutture di inclusione, non crearne un altro a fianco. Un altro a fianco, che è chiaro che se crei un altro a fianco diventerà, come dire, un polo di attrazione, ovviamente di quello che abbiamo visto in questi anni. Ecco, questo è un po' il ragionamento. Allora, introdurre nel PEI, che è un atto formale, per cui concentra l'attenzione anche proprio formale dei genitori, degli insegnanti, introdurre dentro lì un germe, diciamo, di questo tipo di prospettiva, cioè di avere una prospettiva un po' più ampia, un po' meno miope su una monocultura del sostegno, degli interventi speciali, ma anche un po', questo sarebbe stato, secondo me, notevolmente generativo, perché almeno cominciava, no? Infatti nei libretti operativi, quelli che abbiamo fatto, nella scheda che guida il GLO a pensare alle risorse dell'anno dopo, noi abbiamo messo alla prima risorsa proprio la formazione di tutti i curricolari. La prima risorsa, non la decima, diciamo, no? No, la prima. Allora, come dice, come la faccio? Perché ha le competenze di insegnanti di sostegno, che ne sa, se effettivamente è al titolo, perché sappiamo anche che questo c'è un altro problema, no? Rispetto a questo, assistente all'autonomia e alla comunicazione. Queste persone, se contiamo che hai 50-60 mila assistenti all'autonomia e alla comunicazione e almeno un 100 mila insegnanti specializzati col titolo, possiamo stare quelli che non ce l'hanno, calcoliamo a spanne un 100 mila che ce l'hanno, hai 150-160 mila persone della scuola italiana che possono formare sul campo, e non in teoria, con delle prediche, con del niente, formare sul campo delle competenze inclusive nei curricolari. E questo, secondo me, sarebbe un grande passaggio in avanti. Ecco, però, vorrei rimanere su questo tema, perché è veramente molto importante, questo cambio di paradigma che lei chiama, in pratica, ricapitolando, lei dice che l'insegnante e l'assistente di sostegno non devono essere più assegnati all'alunno, ma agli insegnanti curricolari, in modo da fare, da poter creare le competenze, le prassi di dati inclusive, lei cita tramite l'UDL, l'Universal Design for Learning. Ecco, ci spiega un attimo questo piccolo passaggio, completando anche quello che già ci ha detto precedentemente. Allora, l'Universal Design è uno degli approcci per rendere la didattica ordinaria e più inclusiva. Mi spiego, se io faccio storia e faccio storia solamente con il libro di testo e la mia spiegazione verbale alla classe, io uso due canali per trasmettere l'informazione. Se poi io verifico solamente attraverso delle interrogazioni orali, io uso un canale solo per ricevere, diciamo, il prodotto dell'apprendimento. Se poi, come sistema motivazionale, diciamo, di coinvolgimento, uso solamente il voto e uso solamente un canale. Allora, il discorso dell'universalità dice, ma siccome siamo tutti differenti, sia nel come ricevi le informazioni, che nel come esprimi il tuo apprendimento, che nel come sei ingaggiato in una situazione, tu faresti una cosa un po' più universale se usi più modi per trasmettere informazioni, più modi per recuperare, diciamo, il prodotto visibile dell'apprendimento di una persona e più modi per ingaggiare. Allora, più modi per trasmettere informazioni, un po' di universalità. Allora, il libro di testo può essere uno, ma poi c'è anche il romanzo storico, per dire che è un altro modo, ma poi c'è anche il video, ci sono dei film, no? Posso, come dire, costruire un menu, diciamo, di informazione molto più ampio, molto più ricco, che può intercettare di più le differenze tra di acquisizione e di rielaborazione dei vari studenti e delle varie studentesse. Primo, nella fase di input. Nella fase di output, quando io chiedo di produrre delle cose come esito dell'apprendimento, beh, io posso chiedere non solo l'interrogazione classica, ma posso chiedere la scrittura di un saggio, la scrittura di un dialogo teatrale, no? Tra Giulio Cesare e qualcun altro. Posso far costruire, diciamo, degli oggetti, dei materiali. Cioè, posso creare un menu, come l'ho creato in fase di entrata, lo posso creare in fase di uscita. Cioè, cosa vuoi costruire per dimostrarmi che tu hai compreso e assimilato e usi questo tipo? Cioè, un discorso di competenze differenziato in maniera... E poi, terzo ragionamento, quello del coinvolgimento. Perché io posso essere molto coinvolto se lavoro in coppia con una persona. Un altro alunno assolutamente no, vuole un gruppetto un po' più. Ah, un altro gruppo e un altro invece da solo con il computer va benissimo. Cioè, è il contesto, il format che lo ingaggia di più. Allora, se io offrissi anche lì un menu, alcuni sono competitivi, perché gli piace, diciamo, la gara, altri invece no. Allora, se si riuscisse a offrire, diciamo, un menu anche di format, chiamiamoli così, di ingaggio, no? Dei ragazzini dentro... Allora lì avresti colto anche il terzo aspetto di differenze umane, no? Perché le differenze umane, come dice l'UDL, che fa un ragionamento legato anche alle neuroscienze e all'apprendimento, dice che le differenze umane le vedi nella fase di ricezione, nella fase di azione e nella fase motivazionale e affettiva, chiamiamola così. Non queste tre... Allora, se ci fosse più pluralità, più pluralità, no? Più pluralità. Allora, l'insegnante di sostegno che aiuta il curriculare a diventare un po' più universale, no? Può dire, guarda che questa roba qui, no? Ci sono anche altre cose che potremmo mettere in moto, no? Potremmo organizzare la classe in quattro presidi, no? In cui uno mettiamo dentro schede, materiali da legge, eccetera, un altro mettiamo dei podcast, mettiamo delle cose, no? Che uno si sente, magari c'ha difficoltà a accedere al testo scritto, però con un podcast spiega bene, eccetera, o dei video. Ormai c'è una quantità di materiale pazzesco, eh? L'abbiamo visto durante il lockdown, cioè quanto materiale c'era, c'è una cosa incredibile, no? Per cui c'è molta possibilità anche di differenziare, no? E così, come dire, l'aiuto concreto, diciamo, all'universalità è proprio questo, come dire, guarda, cerchiamo di fare le cose più plurali, no? Plurali, in modo che ci siano molti e diversi modi, il più possibile, dopo è chiaro che è difficile, come dire, no? Quindi costruire un menù ricchissimo, insomma, nelle varie fasi dell'apprendimento. Però bisogna tenere conto di una cosa anche. Una scuola è un'istituzione, un'istituzione che non è fatta di atomi impazziti che ognuno va per conto suo. È fatta di, per dire, domani comincia, come fanno i primi collegi docenti, no? Allora, collegio docenti di un bel istituzione, 150 persone, no? 150 persone, sono 150 patrimoni di esperienza, di materiali, uno ha fatto in un modo, uno ha fatto in un altro, uno ha differenziato in un modo, nell'altro. Allora, il compito del dirigente, secondo me, è quello di mettere al sistema e a patrimonio comune questa roba qua. Cioè, se uno ha fatto una bella cosa, ha fatto fare delle letture interessanti perché conosce, sono sul Medioevo, i libri di Ken Follett, per cui, ma questa cosa qua, non è che deve nascondere, se la portasse nella giacchetta, nella borsa, con gelosia, non la fa vedere a nessuno. Cioè, è un operatore di un'istituzione, per cui, è un bene comune, no? Quel tipo di cosa lì. Allora, se si mettesse proprio in un patrimonio comune tutto quello che i vari intelligenti, in un paio d'anni, quella scuola lì, con 150, ammetti che non siano tutti così, scartiamone 50, 100 persone, scartiamone altre 20, 80 persone, ma 80 persone ti producono una quantità di materiale, pazzesco, se venisse messo a fattore comune, no? E allora, questo è anche un compito, diciamo che, dal dirigente, come leadership, via via, anche al lavoro, in santi sostegno. Ma chi è che mi aiuta a documentare sta cosa? No? Santi sostegno mi aiuta a fare questo, invece di portarsi il ragazzino fuori in uno stanzino. Grazie a voi, spero che sia stato tutto chiaro. Molto, molto chiaro, grazie mille. Ottimo.